Ragazzi è stato uno spettacolo, ci siamo divertiti, abbiamo fatto tanta fatica, abbiamo fatto 110 km ma li abbiamo macinati come se non ci fosse stato nessun tipo di problemi. La gioia di Maura Gasperi, organizzatrice del Cammino di San Vili, all'arrivo a Trento della comitiva che si è messa alla prova nello speciale trekking partito il 21 giugno da Madonna di Campiglio. Sei tappe, 100 km nella natura, che per gli escursionisti non vedenti che hanno partecipato hanno significato una vittoria personale, una vittoria di gruppo e un modo per abbattere i pregiudizi. Non degli accompagnatori, degli amici perché sono stati con noi tutta questa settimana, ci siamo trovati subito benissimo con loro e abbiamo condiviso tante belle cose insieme. Con gli altri non vedenti ho condiviso un sacco di tecniche, per esempio per la camminata, quindi è stato anche istruttivo come cammino. Un'esperienza, quella del Cammino di San Vili, che punta a rafforzare anche il turismo inclusivo.